Il SUV cittadino marchiato Opel vi dà il benvenuto Queen AutoSmile è la nuova Opel Crossland X questa versione è un allestimento Advance 1.5 turbodiesel a 102 cavalli perché diesel la teniamo? perché il diesel ha ancora tantissimo da dire pensate che questa vettura va ben oltre i 22 kg con un litro per un utilizzo normale il colore è questo grigio Artense e come potete vedere ha i sensori di parcheggio anteriori e posteriori oltre la retrocamera questo perché ha il pacchetto aggiuntivo del Cam Pack anche i fari fin di nebbia sono un accessorio un bagagliaio che è veramente ampio tenendo presente la categoria del prodotto lo spazio a volontà anche per i tre passeggeri del divanetto posteriore questo è il prodotto che mancava il SUV compatto ed economico contattateci per i prezzi a promozioni incredibili prezzi veramente competitivi allestimento advanced significa anche vetri elettrici anteriori e posteriori specchietti regolabili elettricamente sedile di guida regolabili in altezza i fari di attivazione automatica tutti i comandi al volante sia del cruise control che del viva voce bluetooth o della radio comandi per la sicurezza dar controllo a pressione ai pneumatici a lane assist start and stop e sensori parcheggio cambio sei marce climatizzatore a portata di mano molto comodo e intuitivo come vedete un design degli interni molto elegante sistema multimediale che integra anche la possibilità della retrocamera riassumendo opel crossland x qua disponibile da noi in auto smile nuova vettura nuova non è usata aziendale o km di zero ed è qua contattateci prima di venire a visionare e provarla perché ci sono delle offerte strepitose li aspettiamo